Ci tenevo a fare visita alla comunità e a Don Pierino all'inizio del mio ministero come sono andato in tante altre comunità. Sinceramente l'ho trovato che era molto provato, stanco, e diciamo a momenti era presente, soprattutto nei momenti in cui chiedevo a lui di pregare, di rivolgere il pensiero al Signore. Lì sembrava come se si svegliasse da un torpore e rispondeva in maniera appropriata e devota. Ovviamente per me è stato un momento molto emozionante perché incontrare un sacerdote provato che ha fatto tanto bene alla Chiesa e all'umanità per me era un momento molto bello e molto importante e anche il fatto che io potessi dare un conforto a questo sacerdote provato è stato per me motivo di soddisfazione e di gioia.